Siamo comunque in azione offensiva, grande chiusura poco fa di Maietta ancora Gomez sulla tre quarti, la palla per Esposito che ha perso un brutto pallone lì ancora le pie che ha fatto una magia, poi è un po' sparito dalla partita Marocco il gol lì è una cosa eccezionale Ah ma lui, basta che si veda due volte in questa partita Esatto, la prossima volta che rientro Gianluca Gomez, la palla per le pie Le pie, le pie, le pie, le pie Le pie, le pie, le pie, le pie, le pie Le pie, le pie Le pie Che gol, che gol, che gol Che gol, le pie Mamma mia Andiamo Che gol Carson Gianluca Basta, lascia un po' Le pie, Pucci mai il gol fu più chiamato questo è un gol del campione ti dico la verità ho visto il replay si è coordinato per calciare in quel modo lì ha calciato da grandissimo giocatore fermo lì Giannico ma poi l'ha chiamato vero? mai il gol fu più chiamato